ciao amiche ho deciso di farvi vedere dal vivo questo prodotto nuovo che mi è arrivato sono dei è un nastro stampato in questo caso stampato con un giallo oro per una cliente e questi sono mi sembra 20 metri se non ricordo male la cosa bella è che ovviamente il nastro può essere tagliato e si lascia un po di fianco però può essere ovviamente ripiegato e poi cucito come etichetta questo il nastro resiste alle temperature alte in lavatrice è una bella alternativa alla classica etichetta ricamata che a volte ha delle problematiche come ad esempio in questo caso dove avevamo una scritta molto piccola sotto il ricamo non si riesce a ottenere invece in questo modo con questo tipo di prodotto riusciamo ad avere un logo bello nitido e avere comunque un prodotto che si può tranquillamente lavare in lavatrice ecco volevo farvelo vedere dal vivo in modo che lo prendiate in considerazione per le prossime volte nel caso che vi serva per le vostre creazioni sia di abbigliamento che di cucito creativo eccolo qua questa è l'etichetta tagliata ovviamente c'è il pezzo iniziale che ho tagliato proprio all'inizio del nastro però si può anche decidere la distanza tra un luogo e l'altro quindi se uno ha bisogno di più o meno spazio basta che me lo dica e io posso aumentare lo spazio chiaramente aumentando lo spazio diminuisce la quantità dei luoghi replicabili